Ex Manifatura Tabacchi, le caserme Bonomo o Rossani di Roccate, altri mobili comunali da ristrutturare. Sfoglia la Margherita, la Giunta De Caro, su dove costruire la nuova sede unica degli uffici giudiziari all'indomani della sentenza della Corte Europea sulla Cittadella della Giustizia. Un punto fermo, ritiene il Sindaco, è che l'aggiudicazione del progetto alla Pizzarotti con ricerca di mercato non era legittima e ciò nonostante il parere contrario del Consiglio di Stato, che ora dovrà recepire la decisione della Corte di Bruxelles, in caso contrario scatterebbe l'infrazione comunitaria contro lo Stato italiano per il mancato rispetto della normativa europea in materia di appalti. Nei prossimi giorni incontrerò il sottosegretario alla difesa che ha la delega alla valorizzazione delle caserme per cercare di individuare un'area idonea. Se non sarà possibile nelle caserme individueremo una soluzione diversa, che ovviamente discuteremo con la Commissione di Manutenzione del Tribunale. Intanto però, dopo dieci anni, Bari si ritrova senza sedi giudiziarie. I due palazzi in funzione sono a dir poco fatiscenti, bocciati da tutte le commissioni e gli organismi di controllo. La costruzione del nuovo sito, peraltro, è condizionato dalla risoluzione del lungo conflitto giudiziario con la Pizzarotti. Speriamo che l'impresa Pizzarotti finalmente ceda dal suo atteggiamento prepotente e consenta al Comune di Bari di risolvere e chiudere questa procedura bandendo finalmente la gara per il progetto e per la realizzazione della sede unitaria degli uffici giudiziari. Grazie.